dimmi tu con cosa vorresti iniziare secondo me con la switch oled così ce la togliamo dai maloni cioè nel senso perché tanto è facile no nel senso la console è leggermente più larga 4 mm 3 mm qualcosa del genere quindi immagino che la differenza in termini di percezione alle mani a livello di bilanciamento del peso tutte quelle carte cazzate sia praticamente ininfluente allora si concordi su questa cosa si sia abbastanza ininfluente la è come avere in mano a livello di sensazione immediata è come avere in mano una switch normale anche se è più solida che materiali sono un po diversi soprattutto per quello che riguarda la scocca nel retro visto che c'è la il sostegno hai la sensazione di avere qualcosa di più solido però diciamo come formato grandezza soprattutto perché i joy con sono la guida su quella che è la dimensione dell'hardware sono stessi sì è sempre una nintendo switch perfetto poi alto ok la differenza principale lo schermo è più rosso di un pelo sì di un pelo perché sono andati a mangiare qualche millimetro sul sul bordino perché come potete vedere da da questa foto vediamo se ne trovo un'altra più ravvicinata forse questa no forse sempre meglio quella del eccolo qua se voi paragonate al al bordo nero che c'è su questa avete ben presente che c'è un recupero però anche consistente che magari a lato pratico numerico ecco non è che dici oddio non è che abbiano preso chissà che cosa preso due tre millimetri una parte e tre millimetri dall'altra però poi se consideri tutta l'immagine consideri l'impatto perché comunque uno schermo con un bordo sottile fa tutto un altro impatto è un recupero di grandezza sicuramente molto interessante fa sembrare più la falli fa fare quel salto tecnologico che è solo di percezione ma già quello fa tantissimo perché il hardware moderno dispositivi moderni sono associati al borderless al bordo sottile quindi questo cambio nel bordo ti dà l'impressione che comunque l'hardware sia sia migliore anche anche un bel gioco da quel punto di vista infatti credo che quasi tutti i cellulari moderni hanno rapporto schermo bordo diciamo pari al 95 per cento tipo cose di questo tipo siamo abituati a non avere plastica quando guardiamo un cellulare davanti le altre due direi impressioni che uno può confermare o meno sono queste siccome più grande e quel che si vede è peggio nel senso esatto la densità di pixel giustamente cara però insomma rimangono numeri sulla carta particolarmente alti l'altro è ovviamente hai potuto provare solo dread sopra sì purtroppo c'erano anche unità che giravano con qualcosina giusto sparse qua era solo dread allora riparto un attimo dal discorso della densità perché capisco che uno possa fare questo discorso anche alla luce del di quello che è successo con 3ds 3ds xl che con una risoluzione molto bassa della console che era 240 se non ricordo male ci siamo trovati un grandimento abbastanza consistente così era un 10 per cento poco meno comunque un era molto più grande lo schermo dell'xl e quindi tanti giochi perdendo una densità erano quasi inguardabili mentre in questo caso considerato che è l'aumento è sensibile ma comunque ridotto e la risoluzione è molto più alta di quello che era i tempi del 3ds diciamo che in proporzione ci siamo ma è proprio una qualità diversa noi problema della densità non credo proprio mentre sull'aver provato altre cose purtroppo non posso aiutarvi perché era una prova specifica per dread e nintendo switch oled quindi se dread può essere utilizzato come esempio per tutti non lo so perché mi viene subito in mente l'era della calamità come che vorrei vedere però penso che data la sua natura comunque ibrida tra gioco 2d pulito e scene di intermezzo comunque con camera ed effetti possa comunque dare una buona impressione su quanto può essere efficace da lo schermo gioco che secondo te rende renderebbe di più a parte metodo e dread che abbiamo visto che al contrasti abbastanza elevati secondo te il gioco tra tutti quelli che esistono fino adesso che era le persone dopo aver preso switch oled devono provare per capire meglio e potenziate la dello schermo allora anche per richiamare in causa quasi due centimetri in diagonale si quasi in diagonale appunto comunque anche per chiamare in causa la domanda di fore che la rende giustizia si notano tanti colori più accesi più profondi la prova è stata fatta da nintendo quindi con nintendo quindi non c'è modo di andare a provare tutti i giochi che sono molto hanno colori molto definiti e usano i neri e quindi fatto un attimino smash è inevitabilmente uno di quelli mario kart che pieno di colori forse non così tanto odyssey anche se lo vorrei provare però tutti quei giochi che fanno del contrasto tra i colori vivi e il nero dal loro punto di forza penso proprio che sia da rivederseli per bene quindi non so adesso cosa mi può venire che gioco può essere avrei aiutatemi un po no cosa c'è che usi tanto il nero olo night olo night sarebbe da vedere in portatile sulla oled quindi sarei curiosissimo è vero ma mario ma mario e rabbis all'attunto visita il contrasto però solo per il pop up dei colori è uno dei segni della cucina di odyssey come fanno perché perché davvero ragazzi la l'utilizzo del nero via oled quindi spento non acceso per fare il nero è proprio game changer perché tutto il resto attorno tutti i colori attorno non è giovano sia per la differenza tra un led acceso e uno spento e anche perché la luce non va a mischiarsi proprio a livello puramente di impatto visivo quindi si sarà da fare una bella lista dei giochi che rendono meglio su switch oled appena esce verso ora tutti io credo che tutti i giochi che usano toni scuri che purtroppo spesso incappano nel nel problema del contrasto proprio perché la difficoltà più grande nelle console di nuova generazione soprattutto sui schemi lcd led quello che vuoi è avere dei buoni neri e importati le solo letto non avranno questo problema quindi tutte le grafiche che magari mi sembravano un po slavate un po sipide potrebbero giovare cioè almeno sono abbastanza fiducioso quindi sarebbe davvero da provare tutto lato componenti plastic sono in più soli in ottima cosa allora ti dico approfitto delle foto per parlare di una cosa nello specifico che mi ha sorpreso un po parte che mi ha fatto riderissimo ci sono rimasto la scocca posteriore della doc non fa sportello ma si stacca quindi da un lato forse rende più facile montare perché non hai il cioè puoi montarlo dopo aver già posizionato la console magari ce l'hai troppo attaccata al muro hai poco spazio lo sportello ti darebbe fastidio però l'ho trovato un po bizzarro vabbè ma secondo me è forse quella l'unica foto decente in merito questo è l'assoluto game changer di a livello di materiali lo sportellino dietro ragazzi è meraviglioso perché oltre a essere una praticamente una placca di metallo praticamente adesso io non voglio azzardare dire che c'è adesso il materiale preciso non me lo fate dire ragazzi perché non ho giocato tantissimo in modalità tavolo ho giocato solo un attimo per provare però la sensazione proprio di una roba dura ed è collegata la console con dei perni che non funzionano a scatto a fermi e tutto il resto forse captura conosci i termini tecnici da quel punto di vista ma in qualsiasi angolazione tu vai a posizionare questo questo cavalletto chiamiamo anche se cavalletto adesso un po difficile chiamarlo questo supporto la console rimane c'è una frizione lo tiene fermo non la senti è morbido ma tu lo pieghi basta c'è il peso della console non lo fa muovere bisognerebbe capire alla lunga se uno si mette a fare waka waka ye ye quello che vuoi costantemente con la console se può andare a logorare il meccanismo ma mi ha dato proprio l'ho guardato detto finalmente posso metterlo sul tavolo non mi cade perché proprio tour proprio rigido altre domandine altre domandine diamo un po se mi sono perso qualcosa in chat allora bene o ci sono persone che chiedono questa rispondo io perché tanto non è che si può capire da una prova il rischio ban in il rischio ban in esiste per tutte le tecnologie di schermo attualmente disponibili sul mercato quindi sì esiste ma per tutte le tecnologie di schermo attualmente disponibili sul mercato quindi qualsiasi cosa che comprate se siete ansiogeni dal rischio ban in non comprate dispositivi non schermi nessuno la plastica si manchia sempre con le ditate capisci mix exer avevo questo religioso come dire riserva nel toccare la console che un certo punto ho tolto una cosa col dito mi sono sentito male quindi non te lo so dire nello specifico ma e tieni anche conto che ho provato quella avorio quanto quella bianca e quindi dopo averlo giocato non so se ho lasciato di tante di certo qualcosa lascerai però essendo un po meno plasticoso credo che credo questo in questo caso non mi sento di darti una un assoluto credo che sia un po meglio dal punto di vista perché mi sembra che il materiale sia un po chiesto spressamente se ci fosse un cambio di materiale sullo schermo perché definito schermo antiriflesso ma gli ho chiesto se ci fosse anche una sorta di protezione maggiore no tipo antigraffi o altro non mi hanno saputo dire quindi c'è non mi hanno saputo dire che è più un no da quello che ho capito ciao ma riclicca grande e perciò ti dico aspettiamo un attimo a quel punto di vista perdona me bianca bellissima bianca bellissima bianca bellissima bellissima e secondo me l'unica riserva non per me che io adoro tutto il bianco tutte le console bianche se potessi avere tutte bianche sarebbero mie e che la doc così bianca magari per qualcuno potrebbe essere un pugnino un occhio nella propria abitazione ecco che è vero quello è vero cioè dipende da come avete organizzato la vostra casa se ci stanno bene cose bianche sai che a me onestamente sarebbe bene perché ho un case nella madonna del computer bianco del tipo sono credo 20 kg di alluminio bianchi scrivania bianca quindi secondo me si ci si ci si mette anche bene vero però è la prima è la prima switch il primo modello di nintendo switch usiamo gli articoli giusti che ci mette in questa condizione perché al di là delle versioni speciali con qualche serigrafia specifica se ricordo bene tutte le doc erano comunque nere indipendentemente dal colore di gioco qua viene fatto il primo salto e la versione coi joy con bianchi è anche quella da bianca al contrario di quella perché ricordiamo che esiste il modello switch o led con i joy con classici neon diciamo ecco ecco il colore ufficiale intendo e neon neon blu e neon red quindi se si può optare per quella se si vuole mantenere un po di nero ecco così ma basta luca non dare allora sei dove diceva che la doc e più larga antigraffio si effettivamente me l'hanno detto ho fatto una prova sempre con un timore che di toccare male la console tutto il resto una volta adagiata nella doc e c'è cos'è forse un millimetro davanti un millimetro dietro in più che comunque posso dire una cosa vai che questa racconta prova che le persone che si lamentavano avevano ragione quando si evidenzia un difetto e questo difetto e può essere dovuto anzi è dovuto alle tolleranze geometriche di fabbricazione di uno stampo plastico può capitare che per un numero di utenti le tolleranze sono tutte a sinistra e per altri sono tutte a destra quindi cosa succede alcuni non hanno non presentano il difetto del graffio e altri invece presentano il difetto solo che questa cosa ecco si magari la gente non riesce a capire perché se io ho il difetto allora tutti devono averlo se io non ho il difetto allora nessuno deve averlo quindi tutte su internet sono un paio di cazzo mari di cazzate quando invece era abbastanza evidente che si trattava di questo tipo di problematica e chi si sarebbe potuto risolvere solo ed esclusivamente con una nuova doc che avesse tenuto in considerazione la tolleranza minima e l'avesse spostata fine con questa doc da quello che si è capito sia da l'anteprima che ci ha detto il pit da come gli ha comunicato nintendo sia da quello che hanno detto gli altri questa tolleranza è stata tenuta in considerazione allora per due cose io rimango comunque piuttosto sbigottito ciao luca grande ciali sbigottito quando sento parlare del doc che graffia perché non è che non voglio credervi ma ho provato talmente tante console talmente tante doc che veramente bisogna lanciarle dentro a mio avviso però va bene se nintendo l'ha cambiato vuol dire che qualcosa c'era riconosciamolo mentre sul drift i giochi sono quelli bisogna capire nintendo però proprio come nel caso della tolleranza credo che invece il drift sia un problema ben più chiaro e con conclamato e già aveva fatto delle piccole modifiche in alcuni modelli bisogna vedere appena esce se una volta aperto perché appena sarà nei negozi la gente li aprirà se hanno fatto qualcosa per per il drift alle dichiarazioni presenti mi sembra che avevano detto che non ci sarebbero stati cambiamenti esatto esatto quindi aspettiamoci che si comporti nello stesso modo delle vecchie praticamente i primi che ci potranno dire qualcosa saranno i fix it o comunque chi prima la smonta e ci dice la marca del joycon sostanzialmente perché comunque hanno in passato quando il problema era quello della sincronizzazione nintendo ha intervenuto ha messo le spugnette ha messo del qualcosa in più quindi anche se non dichiara di aver fatto qualcosa espressamente per il drift finché non apriamo dovrebbero essere gli stessi ma finché non apriamo possiamo sapere se magari però sinceramente sono gli stessi anche perché se li cambiano qua poi dovrebbero cambiare nella produzione anche di quelli venduti separatamente quindi non mi farei grandi speranze lo spessore sotto listiche infatti queste modifiche che vanno su tutto il tutta la produzione ma credo che appena possibile se ne rendano conto loro le facciano a prescindere senza dover aspettare una release di un modello quindi che che dici ci sono altre domande sì ovviamente tu hai provato a chiuso yes perché l'altra cosa che effettivamente sarebbe curioso da capire è quanto è più usabile in condizioni di luce ambientale perché un po un limite di questi schermi diciamo che devono essere un po economici tra virgolette questo è vero un po su tanti device è che fa che sotto la luce del sole hanno poca luminosità e purtroppo non ho potuto provarlo eravamo in istanze separate quindi one to one erano le anteprime e non non è stato possibile fare prova all'esterno invece posso rispondere axexer sulle nuove casse è solo una bomba ci sono stati dei momenti che ho sentito il bisogno di abbassare perché era veramente troppo troppo potente la resa e avevo erano nella stessa stanza con un paio di persone nintendo e le vedevo che lavoravano e mi sentivo per quanto fossero lì per seguire me mi sentivo a disagio nell'avere il volume a manetta che matona rimbombava era una potenza devastante quindi da quel punto di vista promosso tantissimo l'audio bello intenso bello bello ciccioso poi pulito che non non va a disperdere la qualità quando il volume è alto diciamo che quando unica cosa che quando abbassato si abbassato molto quindi non lo so ho avuto questa sensazione che abbassato adesso troppo basso in un po bisogna fare alcune prove però il l'audio molto 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 buono assolutamente beh anche quello che si gioca in modalità portatiche senza cuffie senza cuffie si si anche modalità tavolo anche perché poi grazie in tavolo si l'audio va anche ad amplificarsi un po quindi è un bel soprattutto quei giochi che richiedono di sentire bene la voce ottimo ottimo poi dal proprio da sotto arrivano quelle bordate super bello 22 04 allora quindi la spesa della pure da 17 allora unisco le due le due cose rimane sempre questo giustamente le casse a bomba e hanno appena messo il bluetooth io non sono convinto che valga l'upgrade per il consumatore medio c'è un consumatore medio che gioca gioca per giocare che ha uno stipendio medio che vede ne trova nel videogioco un passatempo su 90 milioni di persone non potete pensare che siano tutti appassionati videogiochi e immaginare che si vanno a tirare fuori 350 sacchi così perché la console migliore di quella che ho no non non ce la vedo per niente proprio i miglioramenti ci sono sono tanti ma sono 350 euro puliti se trovate delle occasioni con il trade in come è successo come la game stop come sto facendo io qui ti viene valutata la console dei one 200 euro indipendentemente da quello che ci fareste con solo dei one non mi interessa ragazzi so bene che qualcuno è interessato a queste cose ma non è il momento di parlarne per immaginare di fare di spendere 150 euro per una rinfrescata all'hardware mi ricordo i tempi in cui ero un possessore di iphone tanto tempo fa perché me l'avevano regalato che non lo usava più che dopo un ho portato l'iphone 3 gs come si chiamava a un centro apple e con una cifra tipo 150 euro proprio addirittura mi avevano dato il 4 e poi stessa cosa perché finivano non li producevano più allora quando c'era un problema potevi chiedere la sostituzione cambio praticamente il cambio di modello immaginandolo in quell'ottica secondo me è invece un ottimo passaggio consigliatissima come cosa anche perché vi prendete voi prendete l'esperienza di tutti i cambiamenti fatti in quattro anni quindi la circuito era nuova la batteria è stesa il voltaggio ridotto schermo poi con tutte le aggiunte della oled quindi lo schermo nuovo la doc nuova le casse nuove la presa da ethernet in quell'ottica si in ci sta tutto cioè secondo me è più ancora di quando c'era stato il cambio che aveva permesso di cambiare la switch con la switch modella 2019 io adesso vedo perché ho visto che valutano la light 100 euro quindi me la prenderei a 250 più o meno scusa perdonami che devo abbassare il ho visto che la light la valutano sui 100 euro quasi quasi sì più o meno i prezzi sono quelli a cui la valutano quindi quasi quasi lato dentro è a 250 anche più la light l'ho pagata 180 euro al giorno del lancio tipo quindi sì mi ricordo l'ho trovato la super combo tipo un euro che no chi era media volta aveva tolto riva più cinque euro di sconto se compravo line prima acquisto line tipo 10 euro quindi l'ho presa 180 euro il giorno del lancio se mi gira se mi gira quasi quasi la prendo per sfizio però prima del lancio è perché al lancio non so se te lo fanno fare devi fare una prenotazione contestuale io so tanto ne ti dico a mio io ho un grande affetto per la light perché la trovo che si no ma massimo faccio la rendo al checks cioè questo intendo dire non per forza gamestop e grande affetto per la light però la l'assenza di vibrazione mi ha sempre lasciato un po così quindi se posso poterla cambiare se è la mia unica switch lo cambierei è un'ottima seconda console la light o prima per chi non ha esigenze particolari alla fine sì io comunque considera che sono talmente abituato adesso con mouse e tastiera dove non ho la vibrazione anche se passo sui controller sulla console portatile se non mi vibra non sì però io penso anche perché non ho esigenze particolari da qual'altro punto di vista Luigi's Mansion e Mario Odyssey per dire hanno tante situazioni che in cui fanno affidamento alla vibrazione per piccole sfide challenge o comunque aumentare la sì vabbè ma ci giochi tu o hai non giochi come platform ah sì Luigi's Mansion 3 non è un platform quello no quello sì quello è l'unico quello in effetti è già più valido come cosa è già più gioco è già più gioco ed è molto in realtà è molto bello Luigi's Mansion mamma mia Luigi's Mansion tanta roba rende tanta roba quindi il giudizio sentenziante salomonico senza appello di pit è se dovete comprarla da zero no 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 non fate il passaggio da zero così perché io voglio bene le vostre tasche e 350 euro per avere una console migliore in tutto ma non necessariamente un salto tecnico no se potete fare il trade in invece ma veramente vi ci porto io cioè vi accompagno fatelo è assolutamente assolutamente la scelta migliore che potete fare in questo momento da giocatore di Nintendo Switch ricordatevi che però se avete Animal Crossing, Splatoon, Pokémon, quei giochi là che hanno il blocco sulla copia dei save dovete trasferire il vostro account su una switch muletto o di qualcuno che conoscete temporaneamente perché altrimenti dovete fare una procedura di recupero dei dati con Nintendo perché non basta comprare una nuova switch, renderla primaria e scaricare sono dei giochi che nada quindi io ad esempio ho un muletto e ci ho copiato sopra i miei 3 account europeo, giapponese e americano porterò a brevissimo la mia switch dei 1 a GameStop perché la promozione bastava bloccarla e poi portare la console a qualsiasi momento e poi quando arriverà OLED farò di nuovo il trasferimento via dicendo se invece non avete di questi giochi tranquilli, fate usate il solito Cloud e Nintendo e state sereni allora vediamo un po' se devo ripetere qualcosa o se la domani è diversa no brema praticamente è arrivato proprio chiedendo e appunto vediamo se allora per i contenuti digitali e pre-order vari c'è la possibilità di portare tutto sulla nuova macchina allora provo a fare il riassunto io che è semplicissimo se hai Nintendo online quindi i salvadaggi in crowd e non hai giochi che sono bloccati da usare i salvadaggi in crowd tu resetti la tua vecchia console, prendi la nuova, ci metti il tuo account e ti scarica tutto esatto esatto ricordati di disattivare la console come principale e sul sito Nintendo quando vedi che hai due console ti dici semplicemente che la principale è quella nuova è quella su cui hai messo nuova e a Luca il problema è che la procedura di trasferimento richiede che entrambe le console siano collegate a internet devi inserire i tuoi dati, se hai un account estero ti fa fare la conferma in due fasi ti manda le mail cioè immagina se tutti i clienti facessero sta cosa è un casino, giusto per chiudere la cosa di Bremer riassunto se invece non hai Nintendo online oppure hai uno di quei giochi che è bloccato dall'utilizzo quindi Animal Crossing e via dicendo devi fare il trasferimento tra due console e come sta dicendo adesso Peter, due console devono essere entrambe collegate a internet quindi è una cosa che in negozio non è proprio fattiva a meno che non è un negozietto che conosci la persona ci sei solo tu e te lo fa fare insomma, capito? quindi ci sono queste due c'è questa limitazione grossa che Nintendo ha deciso di bloccare alcuni giochi dal passaggio e quindi se uno si vuole sarà io immagino che ci sarà una caterva di persone che si prendono una console nuova si isola di Animal Crossing brasata perché non sanno questa cosa ma proprio ci scommetto tantissimo però Animal Crossing c'è la procedura di... non la conosco bene in dettaglio perché non mi sono interessato però c'è la procedura per il recupero dei dati proprio di Animal Crossing e credo che vada fatto... intanto è attivata la questione del cloud, del salvataggio cioè proprio una cosa dedicata di Animal Crossing interna al gioco e poi c'è una procedura per il recupero d'emergenza mettiamola così che puoi fare tipo solo una volta ogni totto comunque specifica sì no, sta dicendo praticamente l'altra cosa che viene fuori praticamente se uno gioca in suffisso se uno gioca in docked sempre questa praticamente non offre alcun vantaggio sostanzialmente se non la portaranno integrata che insomma spende tutti quei soldi per la portaranno integrata prendete l'adattatore e via grazie